Torna alla mostra d'oltremare dal 27 al 29 marzo la settima edizione di EnergyMed, la mostra convegno sulle fonti rinnovabili e l'efficienza nel Mediterraneo, promossa dalla NEA, Agenzia Napoletana Energia e Ambiente. Organizzata in tre aree espositive, la rassegna rappresenta il principale appuntamento del settore dell'energia pulita del mezzogiorno e non solo, dall'efficienza energetica alla mobilità sostenibile al riciclo, in mostra circa 200 espositori e aree dedicate ad incontri, convegni e workshop sui temi della Green Economy. E' una rassegna completa di tecnologie con circa 200 imprese su 10.000 metri quadrati, tre padiglioni più nuovi, 4-5 sedi della mostra d'oltremare con l'ingresso da Viale Kennedy, circa 20.000 visitatori attesi dalla Sicilia al Trentino, dalla Germania ai paesi del Mediterraneo, avremo almeno 6 delegazioni di paesi del Mediterraneo interessate a venire a Napoli a conoscere le imprese e gli enti locali e i progetti italiani e ci saranno notevoli novità sul fronte dei finanziamenti. La giornata inaugurale, proprio il giovedì 27, è dedicata ai programmi europei di finanziamento perché nel 2007-2013 abbiamo avuto circa un miliardo di Euro solo per le regioni Convergenza sull'efficienza energetica, nella programmazione 2014-2020 europea ci saranno tantissime risorse da utilizzare e cercare di portare al centro-sud Italia. Nella tre giorni dell'evento, che quest'anno vede tra le novità un'apposita area dedicata allo scambio di esperienze territoriali sulle smart city, sarà possibile anche effettuare prove di veicoli a bassa emissione. EnergyMed resterà aperta al pubblico da giovedì 27 a sabato 29 dalle 9.30 alle 19.30. Raggiungiamo un obiettivo su cui sto lavorando da un anno, di portare qui l'esperienza anche del forum della pubblica amministrazione, l'esperienza smart exhibition di Bologna ed apriamo a Napoli questo padiglione smart city Med che guarda al Mediterraneo, che ha appunto l'ambizione di porre il tema delle opportunità offerte dalla nuova programmazione finanziaria europea per quanto riguarda le smart city. Cioè tutto ciò che riguarda città intelligenti, innovazioni tecnologiche, sviluppo sostenibile sono delle opportunità che vanno colte da questo evento. Appunto si guarda a Napoli come capitale del Mediterraneo sul tema delle città intelligenti.